Scopriamo in 60 secondi tutte le caratteristiche del trio inglesi inaptica. Navicella con tessuti trattati con UPF 50+, per la protezione dei raggi solari e capottina apribile con zanzariera. La navicella è dotata di fondo reclinabile e materassino welcome pad, tessuti sfoderabili e lavabili e copertina rimovibile. Possibilità di scegliere fra due differenti tipologie di ovetti l'ovetto Darwin e il nuovissimo Darwin Recline. Telaio leggero, super compatto ed ammortizzato, con ruota adatta a qualsiasi tipo di terreno, maniglione telescopico e chiusura ad una sola mano. Passeggino reversibile con schienale completamente reclinabile e coprigambe sempre incluso. Passeggino 4 stagioni con doppia imbottitura e inserimento dell'innovativa rete 3D.